Come prolungare la freschezza della foglia di sciso? Come lo vedete le foglie sono già morbide e secche. Le foglie di sciso sono molto utili per qualsiasi cosa, come beneficio alla salute. Certo, uso per fare la decorazione dei piatti, specialmente quando faccio shashimi, quindi per mantenere della freschezza delle foglie, devi bagnare solamente con l'acqua. Dopo qualche ore le foglie diventano duro e solido. Poi mettiamo dentro il frigo. Dopo tre ore controlliamo. Diciamo che tre ore è passato. Dopo tre ore si vede la differenza, è già diventato duro. Così quando poggiamo qualche shashimi ci sta in piedi. Quindi per mantenere la buona qualità della foglia fate come questa strategia, specialmente quando la chiusura, quando dobbiamo conservare. Mi raccomando, non dovete bagnare troppo. Mettete una carta di assorbente dentro, poi quando troppo acqua dovete cambiare. Ok? Solo così. Grazie di aver visto questo video. Spero che vi è piaciuto questa strategia. Grazie e arrivederci. Grazie a tutti. Spero sangrai a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie per la visione